I capelli si è voluto fermare per il maltempo, ma come potete vedere c'è un bellissimo cielo celeste Cioè, quindi, i capelli... Quale? Quello? Ma no! Non è un temporale quello, è un... È diversamente soleggiante Bubola Bubola Ma no! Come fai a definirlo temporale? Sì, è vero Non è proprio celeste celeste, no? Uno dice, ma... Però... Definirlo temporale, fai donna Ecco, ora che si vede Cioè, questo è... È bello Questo è brutto Diversamente bello Diversamente bello E questo invece... È bello un po' sempre, eh? Dai, diciamocelo Ah! Sono bellissimo Ari Krishna Tittrombo Norvegese